È una vera e propria strage di animali quella che si sta consumando da diverse settimane nella città di Battipaglia. I gnoti stanno disseminando per il centro sacchetti contenenti veleno misto a briciole, chiodi e monetine. Ad intervenire sul tema l'ex deputato del Movimento 5 Stelle Paolo Bernini, presidente di Pia Onlus. Inaccettabile che qualcuno possa commettere indisturbato tali crimini contro esseri indifesi, afferma, assordante il silenzio dell'amministrazione che ignora la normativa in vigore con annessi obblighi di tutela verso gli animali randaggi. A mezzo posta certificata, continua Bernini, abbiamo ricordato alla sindaca che proprio lei è la massima autorità sanitaria della comunità e abbiamo sollecitato un celere intervento affinché metta in campo ogni strategia necessaria a tutelare la salute e l'incolumità degli animali e dei cittadini.